Ciao ragazzi, qua Lorenzo Conzatti con il sole di calciomercato su Calcio Network. Allora partiamo subito dalla prima previsione di ufficialità. È fatta per Valentino Lazaro, che firmerà un quinquennale da 1,5 milioni l'anno. Quinquennale perché appunto, come avevo detto, è ritenuto molto importante per presente e futuro. Le cifre potrebbero avvicinarsi a quelle che aveva chiesto l'Arta Berlino, tra i 22 e i 25 milioni. Però la base potrebbe rimanere sui 15-20 e quella somma potrebbe essere raggiunta tramite bonus facilmente raggiungibili all'interno della stagione calcistica. Detto questo, abbiamo assistito ieri al primo patto di non belligeranza o il primo patto d'acciaio del calcio moderno in Italia, potremmo dire. C'è un accordo tra Juventus e Inter per non intralciarsi a vicenda sugli obiettivi di calciomercato. Cosa prevede questo accordo? Che la Juventus abbia praticamente carta bianca per il ritorno di Paul Pogba. In concomitanza l'Inter avrà la libertà di virare con decisione su Sergei Milinkovic-Savic, con cui la Juve avrebbe l'accordo. Ma nel momento in cui riuscisse a portare Paul Pogba a Torino, la Juve lo mollerebbe lasciando all'Inter l'iniziativa. Chiaramente se sfumasse Paul Pogba la Juventus potrebbe chiudere, però dovrà essere abilità dell'Inter cercare di chiudere prima che la Juventus possa rifiundarsi nuovamente su Sergei Milinkovic-Savic. Bisognerà anche verificare quale verrà scelto tra lui e Donny van de Beek, che in questo momento è una situazione che privilegia leggermente il serbo perché conosce maggiormente il campionato di Serie A. Però come detto ieri, anche la trattativa per Donny van de Beek è molto molto calda dopo il pranzo in Germania. Relativamente a ciò, bisognerà fare molta attenzione anche allo scambio di Bala e Icardi, perché non è affatto scontato che esso vada in porto. Infatti Di Bala nel suo futuro attualmente ha una possibilità all'Inter, ma anche all'Atletico Madrid per denaro, oppure al Manchester United come contropartita molto gradita per riportare il polpo dai bianconeri. È una carta che la Juventus cercherà di utilizzare il più possibile, quindi che lui riesca ad arrivare all'Inter perché il giocatore avrebbe già l'accordo con Beppe Marotta non è così scontato. Bisognerà vedere tanti sviluppi e tanti intrecci. Per quanto concerne la vicenda Mauro Icardi, dopo varie contrattazioni è arrivata in sede un'offerta dell'Atletico Madrid da 72 milioni di euro. La società nerazzurra sembra aver accettato, ma adesso il nodo più difficile da sciogliere è dato dal convincere il giocatore ad accettare una destinazione che non sia italiana. Come sappiamo lui è restio ad accettare di trasferirsi e di spostarsi dall'Italia e quindi probabilmente non sarà facile. Ecco comunque spiegato il motivo del post di Vandanara di questo pomeriggio. Accetterà di prendere questo treno verso la Spagna? Se il trasferimento spagnolo non dovesse concretizzarsi, non è comunque da escludere che Icardi venga comunque ceduto da Juventus. Verrebbe inserito nella trattativa quadrado più un corposo conguaglio economico. Perché questo? Perché l'Inter vorrebbe avere una chioccia affidabile per riuscire a far ambientare in maniera efficace Valentino Lazaro nel campionato italiano e soprattutto rafforzare notevolmente l'out di destra. Ne deriverebbe anche un conguaglio economico corposo di 60-70 milioni che l'Inter potrebbe investire sul mercato, sia per arrivare a un nuovo nome a centrocampo, sia per puntare ad un nome di fantasia e creatività per l'attacco. Il famoso numero 7 di cui vi parlo da settimane, che è un identikit tracciato da Antonio Conte, che rappresenterebbe la prima alternativa a Dybala. Detto questo, mi arriva un nome nuovo dalla Germania. Ci aveva preso la mia fonte, che a gennaio mi parlò di mercato pianificato con Conte in Germania, da parte di Ausilio e Marotta. L'Inter ha chiesto informazioni per Kai Havertz, giocatore fantastico per la sua età, un classe 99 che veramente ha il tocco vellutato, una grande visione di gioco, abilità nei passaggi filtranti, nelle conclusioni da dentro e fuori dall'area, e che è veramente duttile. Può giocare mezzala, esterno e trequartista, che è il ruolo naturale. Un giocatore che, per coloro che si stupiscono di Zaniolo, consiglio caldamente. Un 99 estremamente forte, il prospetto più importante della Bundesliga. E già sentire l'Inter accostata a giocatori giovani di questo calibro mi riempie d'orgoglio. Detto questo, bisognerà valutare tantissimi intrecci derivanti dal patto d'acciaio e anche da altre situazioni, come ad esempio quella di Kolarov, che si può leggermente defilare, avendo anche ricevuto un'altra offerta dalla Turchia. Però, in tal caso, si virerebbe con decisione su tagliafico, come detto. Se volete sapere il seguito di questa storia e molte altre, vi invito a lasciare tanti mi piace qua sotto, iscrivervi al canale e restare aggiornati. Un saluto, ciao!